Il pomeriggio di giovedì scorso i carabinieri di Piraino hanno arrestato in flagranza di reato una 24enne di origine romena per furto aggravato. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione da parte del titolare di un negozio nel comune di Piraino, mettendosi alla ricerca di una giovane donna che si era appena allontanata dal supermercato dopo aver rubato 10 bottiglie di superalcolici che ha nascosto nel passeggino dove si trovava sua figlia. Presentatasi alla cassa la donna ha pagato qualche articolo per poi uscire dal negozio e in quel momento il proprietario del supermercato si è accorto delle bottiglie nascoste dalla donna che prima di scappare con la bambina in braccio ha lasciato il passeggino nei pressi del supermercato per poi allontanarsi a piedi in direzione della linea ferrata. La donna è stata rintracciata e poi trovata nel centro di gioiosa marea ma i carabinieri l'hanno arrestata in flagranza di reato. La refurtiva consistente in 10 bottiglie di superalcolici di vario genere del valore di circa 250 euro inizialmente sequestrata è stata poi restituita al titolare del negozio. La donna è stata messa agli arresti domiciliari e successivamente sottoposta all'obbligo di dimora a Catania.